Dopo il grande successo dello scorso anno torna il festival del teatro popolare IAMBEL. Il festival è organizzato dalla Wilt Molise Unione Italiana Libero Teatro in compartecipazione con l'azienda autonoma di soggiorno e turismo della regione molise. Dal 20 gennaio al 5 maggio da Campobasso a Guionesi nove appuntamenti che vedranno sul palco cinque compagnie locali e quattro da fuori regione. La seconda edizione quest'anno siamo partiti un po' più tardi perché è stata un po' più l'organizzazione un po' più particolare però partiamo già da sabato prossimo il 20 gennaio ci sarà la prima qui proprio a Campobasso nel capoluogo regionale con la compagnia Unitea Pop che è una compagnia di Campobasso che presenterà lo spumante avariato una commedia allegra molto divertente che vi invitiamo a venire a vederci e a trovarci perché da lì partirà una serie di commedie e di serate divertenti perché il nostro teatro è un teatro popolare, un teatro di leggerezza e sono nove comuni in tutto il Molise come l'anno scorso perché questa è la caratteristica, essere una stagione teatrale perché io penso sia una stagione, insomma non è più una rassegna una programmazione che va avanti per cinque mesi, insomma diventa una stagione teatrale e quindi l'obiettivo e la prerogativa è proprio quella di coprire il Molise portiamo il teatro a costo zero diciamo nei piccoli posti dove la gente ha voglia di vedere il teatro e molto spesso non ha la possibilità di risorse per poter avere il teatro in questi piccoli comuni dall'Alto Molise, da Agnone, poi Campobasso fino ad arrivare a Termoli con tutti questi paesi e sarà bello stare insieme a tanta gente che avrà il piacere di venirci a trovare